50 faldoni di atti giudiziari, una mole imponente di documenti difficili da liquidare con l'espressione ha dato un contributo stabile a Cosa Nostra, ma gli episodi ricostruiti e rievocati sono tanti e di una spiegazione avranno bisogno. La lettura attenta delle carte depositate dalla Procura a sostegno della richiesta di confisca del patrimonio di Mario Ciancio sta scatenando ricerche d'archivio per riscontrare fatti, circostanze, articoli del quotidiano La Sicilia e di altri giornali. C'è chi scopre anche una presunta linea editoriale sull'aeroporto di Comiso, ma questo dossier non sembra offrire argomenti alla causa del concorso con Cosa Nostra. Infatti gravi sono altri, i silenzi mantenuti per anni sulla mafiosità di alcuni personaggi, Santa Paola su tutti, la pubblicazione sulle colonne del quotidiano delle lettere spedite da boss reclusi al 41 bis e quindi impossibilitati a comunicare con l'esterno, le visite e redazione di noti mafiosi, peraltro accolti e riveriti dai giornalisti più vicini al direttore editore. Il rimprovero di quest'ultimo al cronista, colpevole di avere citato il boss Ercolano in presenza di quest'ultimo. Il rifiuto di pubblicazione del necrologio a pagamento alla memoria del commissario Beppe Montana, vittima di mafia. La singolare pubblicazione di quell'articolo che bruciò il primo pentito pronto a fare rivelazioni sugli assassini di Giuseppe Fava è la prolungata azione di sostegno a quell'opera di depistaggio, durata dieci anni, sul movente e di questo delitto. I giornalisti delle testate del gruppo Ciancio e il loro sindacato difendono a spada tratta la limpidezza professionale della loro storia. Giusto, niente criminalizzazioni, ma i fatti, certi fatti, almeno quelli ascennati, richiedono una spiegazione convincente.